Ciao a tutti ragazzi, sono io, sono Granchio e oggi siamo qua con un nuovo episodio E oggi ragazzi, oggi ragazzi siamo su Warhammer 40.000 Un gioco che ho per pc ragazzi, io non l'ho mai fatto sul mio canale E' la prima volta che registro questo gioco e ragazzi è veramente epico Io diciamo che ce l'ho da un po' questo gioco, ce l'ho già scaricato E ho fatto, dobbiamo fare, ovviamente siamo al capitolo 1 tra le fiamme E ho fatto tutte queste missioni, però se volete le rifaccio Se volete le rifaccio per voi Intanto sono arrivato qui nella Marea Verde E ho fatto queste tre missioni Adesso rifaremo tutte e tre, tutte e quattro le missioni Compresa quella che devo fare ancora Quindi iniziamo Bene ragazzi, vi dirò una cosa Vi dico di iscrivermi, di iscrivervi Non so neanche parlare al mio canale E anche a quello di Francesco Tofanina Che ieri ragazzi è stata una giornata epica Perché finalmente siamo riusciti a scappare dalla nonna Ragazzi, cioè sono contentissimo veramente Se non avete visto il video guardatelo Perché è veramente epico Però ragazzi l'ho fatto sul mio secondo canale Sul mio secondo canale Bene Noi ragazzi In che cosa consiste questo gioco Allora Questo gioco consiste nel creare Nel creare il tuo personaggio Ok, creare il tuo robot E sconfiggere una volta per tutte Il pelle verde Però L'unica cosa È che è un po' È un po' difficile all'inizio Cioè se ve lo scaricate È un po' difficile all'inizio Perché Se vede I comandi non sono proprio Tanto chiari Però è un gioco veramente bellissimo La grafica è stupenda E qui c'è la missione Stermina i pelle verde E noi li stermineremo ragazzi Ma proprio Ma proprio tanto, tanto, tanto Bene Qua vedete le città imperiali Sono bellissime Oh ragazzi Non mi ha portato grande cosa Non ho letto Va bene Bene Intanto noi stiamo sterminando I pelle verde Lanciamo i visili Ah, ce n'è uno qua Boom Bene Ah, ma no, 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 no Sono anche un po' amatiato Quindi sono fortissimo Orpoi Bene Ragazzi Ormai ho capito come Come si gioca questo gioco Però non devo Non devo Adagiarmi sugli all'alleghi Eh Non devo Essere troppo sicuro di me Quindi Fregarmi da solo Perché se no Se no poi non riesco A fare tante Bene Quella passerella ci si tocca Ci blocca la strada Ci si progira con le armi pesanti Bene Io so Ce l'ha un'aria di questi Quindi Non devo andare a strutturare Bene Ehm Un punto Sterminiamo Pelle verde Ehm Il check point Ragazzi Sidoffrarlo Di armi Pelle verde Deve essere distruttito Come devono essere distruttivano Suono i scagnozi Bene Bene ragazzi Io ragazzi Ehm Non voglio ripetere ragazzi Io Ehm Non conoscevo La roba Ehm Di wallhammer Ehm Spero poterli importare Su il canale Ehm Ehm Wallhammer Wallhammer Ehm Wallhammer Superbook Che è un gioco Che io Adesso Ehm Bene Allora Siamo Ehm Andati a livello 4 E abbiamo Ottenuto 5 Di oro Bene Perfetto Continuiamo Questa Era la prima Missione Come vedete Cioè Questo gioco È fantastico Come vedete Cioè È veramente Fatto bene Ehm Cioè Tutta la saga Ehm Tutti i giochi Di wallhammer Sono Fatti Molto 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 Andiamo Alla prossima Missione Sempre che Riesca A farle tutte In questo episodio Bene 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 Abbiamo Un sacco Di nuove pitture Ehm Beh Questa non mi piace Questa non mi piace Per niente Oh è Così è Fogo Così è figo Vediamo questa Insomma Vediamo No ragazzi Cioè Questo è Questo Così Allora ragazzi Io lo metto Io lo metto Così Per il momento Lo metto Così Poi Nei commenti Scrivetemi Quale di queste Pitture Volete Perché Mi è piaciuta Veramente tanto Questa Cioè Mi piace Veramente tanto Questa Però ragazzi Quella rossa È bellissima Secondo me È bellissima Quella rossa Vediamo le altre Allora Questa Dicché Questa normale Sì Abbastanza Blu Bello Però E questa Marrone Però ragazzi Quella rossa È troppo bella Troppo 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 Bene Bene Quindi Finiture Abbiamo delle nuove Finiture Vabbè Ragazzi Cioè Che bestia Stiamo creando Cioè Così è bellissimo Ragazzi Così È veramente Fantastico Perfetto I simboli Sono quelli che sono Tesschio I teschi Così Oppure Questi qua Fantastico Bene Bene Così Docchiamo Un altro Un'altra cosa E Un altro Stack Bene È nulla Ed esci Continuare Questa Modificazione Che le modifiche Punta Non si fa Tornare almeno Un principale Salve Continua Perfetto Schieriamo Il nostro Eroe Distrugge Il Mega Dread Ecco ragazzi Ci sono questi Mega Dread Che sono Dei robot Enormi Ok Avversari Ovviamente Che voi dovete Distruggere E sono particolarmente Difficili Beh ragazzi Come sempre Leggete voi Perché Io come sempre La fuga Del gioco Non riesco a leggere Ehm Sono baffino Con le parole Lui come è Salve Quindi Mi sa che erano Dove Oggi Ho ucciso Quelle L'ultima Pelle verde E Devo dire Che però I Pelle verde Non stanno Proprio Tipatici Cioè Anche sugli altri Total War Di solito Li apprezzo Ovviamente Warhammer Di Total War Perché Ce ne sono Sacco Ci c'è Nessun Sacco Di Total War Spice Che E Abbiamo già Perso Un ascolto Adesso Non vedo La fuga Critico Vai Vai Tutto Stiamo Togliendo Un sacco Di vita E adesso Ultimo Colpo Ultimo Colpo Devo distrutto Ragazzi Perfetto Forse ce n'è anche Un altro Questa missione L'ho fatto Da qui E Tipo Si Perché Se voi Ehm Non ce la Ve lo chiedete Io Ho Un ascolto Il Ce l'ho E Un ascolto Però Non è che ci giochi Tanto Ci giochi Così E Quindi Negli ultimi giorni Negli ultimi giorni Però Ci sto giocando Molto E quindi Le missioni Le ho fatte Cioè La prima missione L'ho fatta Un po' Tre mesi fa E Ovviamente Ci devo mostrare Le Le altre Qua Tre missioni O due Le altre missioni Le ho fatte In questi giorni Quindi Va bene Ok Allora Continuiamo la nostra avventura Allora abbiamo fatto La rivarsa del Freeblade Poi abbiamo fatto Aprirsi Un No Abbiamo fatto La rivarsa del Freeblade Abbiamo Fatto Tutto Fatto Tutto Adesso facciamo Un nuovo capitolo Aprirsi Il valico Bene Attrezzatura Va ben così Siamo Potentissimi E quindi Ragazzi Iniziamo Questa nuova missione Intanto Sto tenendo d'occhio Il tempo Della registrazione Perché dovete sapere Che Youtube Mi ha messo Delle restrizioni Cioè Non posso Fare Registrazioni Di Non posso andare Oltre un limite Il tempo Quindi Devo tenere d'occhio Per poi Per poi Riuscire a pubblicare Il video Perché sarebbe Un Cioè Un peccato Non riuscire a pubblicarlo Perché Non ho visto Il video E Dovete sapere Ragazzi Dio Sono una persona Che si arrabbia Probabilmente E Quindi Insomma Queste cose Non posso pubblicare I video Senza Non posso Capitare I video E Devo Attenere A Questo Il tempo Da Molto Questo E Quindi Non vedrete Mai Video Di 34 40 Minuto Il massimo Che posso fare È 6 C'è Quindi Questo Quello è il massimo Che posso fare Non posso andare Oltre Se non Non posso Pubblicare Per Per pubblicarlo Ma Siccome Sono Un'altra persona Che Non ne Cresce Niente Lascio Stare Preferisco Continuare A fare Video A fare Gameplay Però Farli Corti Ma Farne Tanti Ok Questi giorni Sono Di Vedrete Molti Video Bene Ok Continuiamo Bene Ok Scorte Ricompense Del giorno Richiediamo Abbiamo un attimo Le paure Cosa troviamo Bocchino Migliore Va bene 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 Campagna Adesso Facciamo Allora I capitoli Sarebbero Composti Da Tre Livelli Ok Io ragazzi Ne faccio Uno Perché Come avete Visto Come avete Visto Mi sono Accorto Solo adesso Che Ho Rifatto La missione Che abbiamo Appena Fatto Era la Missione Che avevamo Già Fatto Prima E quindi Inizierò Molto Prima Ok Non so Questa Questa Mi 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 Iniziamo Un'altra Iniziamo Un'altra Missione Possibilmente Che Sia Diversa Perché Altrimenti Bene Questa È Diversa Questa È Diversa Ok Bene Bene Questo è difficile Questo è più difficile Questa l'ho fatta Ieri L'ho fatta ieri Questa Bene Per Ragazzi Lo sto facendo Perché Perché Per Vedere Le Missione Stutturate Perché Attenuti Cioè Se Io Avesse Fatto Un altro Gameplay Con Le stesse Missioni Ovviamente Non ve Le avrei Fatte Vedere Ovviamente Però È Questione Di Giustizia Versi di voi Cioè Magari C'è C'è Nel Uno di voi Che mi guarda E Che Usa Questi giochi E Vediamo Perché Potrei Praticamente Per 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 Praticamente E Non ce n'è Neanche Non ce n'è Neanche Di Quando Potrei Fare Un attimo Di Conosce Non sarebbe Giusto Niente Anche Per Per Continuiamo La missione Dell'altro Poi Faremo Le Admissioni Voi Dite E voi Mi perdete Tutto Il Logico Delle Altre Missioni Che ho Fatto Prima Quindi Questo Non Sarebbe Esistito Su Voi Di Belle Verde La Non Vuole Di Terce Morire E Perfetto Intanto Ragazzi Voi Vi Leggete Le cose In Poi Vedete Per Leggerle Nella Foga Delle Giochi Mi Mento A Vedete Leggerle Poi Bene 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 Tutto Sono C'è Così Tocco Vento I Mie Missile Paggione 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 Disastro L'unica Cosa Ragazzi Che non Mi piace Paggione Paggione E che Le armi Che non Puoi Sparare All'infinito Perché Le Perché Vagli In Sovraccarico Bene Teniamo D'occhio La registrazione Siamo Arrivati A 15 Minuti Va Bene Possiamo Continuare Ancora Un po Altri 20 Minuti Così Sì Siamo Arrivati A livello 5 Del mio Personaggio Che Sono Stratto E Continuiamo Bene Ragazzi Per oggi Per oggi È tutto Come Per oggi È tutto Pubblicherò Pubblicherò Un nuovo video Di questo gioco Non so Quando Ma lo pubblicherò Insomma Prossimamente E Finiremo Finiremo Anche le altre Due missioni Che ci mancano Commentate Iscrivetevi al mio canale E Da Granchio 2 Da Granchio 2 Un Mega Salutone Ciao 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 Ciao